A Bussar Sizz ci si prepara i play-out per la seconda volta nelle ultime tre stagioni. Una nata travagliata in cui tutti hanno fatto la loro parte in negativo, salvabile in questi due finali con il Pergocrema. Domenica allo Speroni l'imperativo è vincere per non avere troppa paura, una settimana più tardi in trasferta. Intanto Gaudenzi può sorridere, Barbaglia e Del Grosso sono recuperati, anche Passiglia, Abile e Arruolato. Al momento giusto l'intera rosa è disponibile e la possibilità di scegliere la formazione ideale. L'esperienza in questi casi conta eccome, ne ha da vendere Matteo Pivotto, leader vero dei Tigrotti, assoluto trascinatore nei momenti più difficili. Bisogna essere positivi, bisogna essere positivi perché comunque affrontiamo due partite importanti. Sappiamo che sono due partite alla fine, può succedere di tutto. Noi sicuramente in casa dobbiamo cercare di fare la partita e cercare di vincere, perché con due pareggi usciamo. E quindi comunque in casa abbiamo visto che ultimamente riusciamo a vincere qualche partita con le dirette concorrenti e bisogna essere fiduciosi.